La situazione in Italia e in Europa è difficilissima. Ieri il Fondo Monetario Internazionale con le previsioni ha confermato che noi siamo in recessione e che l'Europa è in stagnazione. Oggi i Tadistat sulla povertà ancora confermano la situazione di gravità nella quale siamo. È necessario cambiare rotta nell'area euro per puntare sullo sviluppo e il lavoro e dotare il Fondo Salva Stati di una capacità di intervento effettiva che scoraggi la speculazione. Governo e partiti devono convergere su questi obiettivi. Il Governo deve prestare attenzione al Parlamento per correggere i punti che non vanno della spending review. Soltanto rimettendo al centro lo sviluppo riusciamo a rendere anche il debito pubblico sostenibile e a ridurlo per fare in modo che ci sia una prospettiva di crescita.